No, no, siamo molto contenti. Come dico sempre, a Pallavolo si gioca molto in battuta e ricezione. Oggi noi abbiamo battuto bene e soprattutto abbiamo tenuto duro nei giri delle loro battute forti. Per cui la partita è stata più facile del previsto, ci aspettavamo un po' più di battaglia perché dall'altra parte ci sono grandi giocatori. Però siamo stati bravi a partire bene soprattutto nel secondo e nel terzo set e quindi poi col vantaggio abbiamo giocato anche un po' più sciolti rispetto al primo set. Eh sì, purtroppo lo sapevamo anche prima della partita chiaramente che sarebbe stata per un po' l'ultima partita con poco pubblico. Peccato perché anche questo poco pubblico ci ha aiutato oggi. Speriamo di averlo presto ma soprattutto speriamo di andare avanti noi.